Salve a tutti e bentrovati in questo nuovissimo video. Un saluto a tutti da Max, parliamo dell'oroscopo per il mese di marzo 2023, cerchiamo di capire cosa succede quindi in questo mese e visto che continua il trend positivo delle stelle, quindi in un certo senso approfittiamone. Ma non per tutti, per tutti i nati sotto il segno dell'acquadio, quindi mi rivolgo a voi e questo mese, attenzione, perché potrebbe regalarvi ottime occasioni per conoscere anche semplicemente nuova gente, quindi migliorare la qualità della vostra vita sociale e il dialogo anche volendo con chi vi sta vicino, quindi con il partner. La splendida congiunzione tra Venere e Giove, che ci sarà a inizio del mese, ti farà vivere l'amore e le tue relazioni in modo gioioso, assolutamente in sintonia con i tuoi desideri. Approfitta quindi di questo passaggio per poter alleggerire il tuo stato d'animo e godere senz'altro di momenti spensierati con la persona che più ti aggrata, che ti sta più a cuore. Quindi, si tratta di un ottimo passaggio per approfittarne, che può portare buone occasioni anche nel lavoro e non soltanto nella vita privata. E chi è alla ricerca di cambiamenti o nuovi stimoli professionali, questo mese potrebbe ricevere delle belle conferme, delle proposte che siano interessanti. Marte fino a giorno 24 sarà in buon appoggio e potrebbe favorire la riuscita di un progetto creativo, migliorare la tua forma fisica, renderti particolarmente propositivo. Creativo e superpassionale in camera da letto. È un transito che ti accompagna dalla fine di agosto e che ti ha aiutato a superare qualche momento d'empass frutto dell'azione congiunta di Saturno e Urano. Il pianeta giorno 25 passa in cancro spostando l'attenzione sul modo in cui gestisci i tuoi impegni di lavoro, la routine e il tempo che dedichi al tuo benessere personale. Giorno 7 Saturno abbandona il tuo segno e passa in pesci, attivando il tuo secondo campo, quello che attiene alle risorse economiche e personali. Il pianeta nel corso dei prossimi due anni e mezzo ti spingerà a ridefinire il tuo rapporto con il denaro, ma anche ad osservare più attentamente la tua situazione finanziaria. Se ci sono progetti che stentano a decollare, o rapporti lavorativi che non scorrono come dovrebbero, il transito di Saturno ti spingerà a stringere, o le cose iniziano a funzionare, o si vedono miglioramenti tangibili, oppure meglio voltare pagina e dedicarsi ad altro. In tutti i casi la motivazione a guadagnare di più ti accompagnerà per tutto l'anno. Se ti muoverai con le giuste richieste o iniziative, potrai ottenere molto. Non dimenticare che giorno 23 Plutone, il pianeta dell'inconscio e delle trasformazioni profonde, passa nel tuo segno, un evento di grande importanza e che per te significa riconquistare controllo sulla tua vita, sulle tue scelte, ma anche confrontarti con cambiamenti di grande portata, necessari per la tua evoluzione. È proprio il caso di pensare a qualcosa che possa far fruttare il tuo talento per quanto riguarda i soldi. Ma è anche il momento di capire cos'è che dentro di te è rimasto in ombra e che adesso ha bisogno di essere portato alla luce, quel qualcosa che vuole gridare a voce alta, io sono qui. A volte tendete a voler compiacere gli altri e questo non vi fa gioco quando si tratta di allenamento. Se volete compiacere gli altri, rischiate di andare incontro a infortuni fisici e problemi di insicurezza. Lo spinning è un buon compromesso perché vi consente di stare in gruppo e socializzare e allo stesso tempo vi fa mantenere l'attenzione sulla fatica, sul lavoro dei muscoli, sul fiato. Benissimo anche saltare la corda quando sentite che vorreste sfogare energie in eccesso o se vi accorgete che il giorno sta passando insieme a pensieri e preoccupazioni eccessive. Fate sempre stretching e curatevi molto della pelle dopo la doccia o il bagno in vasca. Benissimo anche esercizi di respirazione per attenuare la tensione mentale. Alcuni di voi stanno facendo un percorso esistenziale importante e stanno aprendosi verso nuove prospettive deliziose anche a livello professionale. Si tratta di un momento di apertura a nuove prospettive. Avete tutta la voglia di conoscere persone che vi guidino verso prospettive nuove, divertenti e ammalianti. Attenzione solo a non cadere nella trappola dell'ego e non iniziare a sentirvi troppo, tanto importanti o arrivare a sopravvalutare le persone che vi fanno da guide e idealizzarle a livello importante. Rischiate di sbattere forte il muso contro le vostre stesse idealizzazioni e non riconoscere con criterio le situazioni in cui vi trovate. Siate molto famelici e coraggiosi verso nuova conoscenza e nuove avventure ma non entrate nell'esasperazione di voi stessi e degli altri.